In questo video vi vorrei parlare di un esame diagnostico che è l'ecocardio color doppler o ecocardiografia o ecografia cardiaca. Quindi, ricapitolando, l'ecocardiografia è una metodica molto importante per risalire a quelle informazioni morfo funzionali del nostro cuore. Utilizza gli ultrasuoni per ricostruire le immagini ed è ormai ampiamente diffuso. La metodica più utilizzata è l'ecografia transtoracica, cioè quella che si esegue sopra al torace del paziente, con della gelatina, una sonda ecografica e l'apparecchio che è l'ecografo. È sempre importante portare in visione al cardiologo che esegue questo esame tutta la documentazione cardiologica in possesso e anche la terapia che si sta assumendo in modo da poter valutare caso per caso tutto ciò che è necessario.